La scoperta di nove casi della variante Omicron ha gettato nel panico il governo della Nuova Zelanda, che ha immediatamente risposto con una nuova batteria di restrizioni liberticide. Almeno fino alla fine di febbraio i cittadini del paese anglosassone dovranno infatti tornare ad indossare le mascherine all'aperto. Inoltre agli eventi sociali non potranno partecipare più di 100 persone, ragione per cui anche il primo ministro Jacinda Ardern si è vista costretta ad annullare le proprie nozze. Mi unisco ai tanti cittadini che hanno avuto un'esperienza del genere a causa della pandemia, non sono diversa da loro, ha detto la leader neozelandese, che pochi giorni prima aveva anche annunciato nuove tempistiche per le quarantene obbligatorie. I contatti stretti di persone positive saranno infatti obbligati a isolarsi per ben 24 giorni. Una misura in netta controtendenza con quanto sta succedendo in Europa, dove sempre più paesi stanno diminuendo i tempi di confinamento e iniziando a considerare il covid come una malattia endemica e lo stanno facendo per di più in pieno inverno. In Nuova Zelanda invece l'estate e le temperature non hanno impedito che nove casi fossero sufficienti a far scattare l'allarme. Nonostante il 92% della popolazione adulta sia vaccinata con due dosi e più della metà anche con la terza di richiamo, Wellington non molla la presa e insiste con il suo obiettivo, che è quello di portare la lancetta dei contagi a zero, costi quello che costi e al di là di ogni evidenza scientifica.